Sì, si sente dolore, al momento si sente dolore. Siamo solo questo, ma può andare a camminare e è importante sentirsi che si è tornato sull'esercito e speriamo che quando ci vediamo in qualche giornata che Rodrigo possa sentire meglio e che possa giocare presto. Ovviamente questa è stata una differenza diversa da quella di Manchester City. Cosa ha cambiato? Credo che oggi ha cambiato qualcosa dopo aver scoperto il primo gol. Abbiamo scoperto e in questa Liga non puoi scoperto e devi essere consistente in tutte le parti del gioco. Abbiamo scoperto molto dopo aver scoperto. Abbiamo scoperto per questo. Cosa ha fatto Pedro Coro? Credo che era pronto per giocare e sicuramente è pronto per giocare in questa Liga perché è un grande gioco con esperienza. Ma anche noi sappiamo che non è facile. Quindi cambiare la Liga, cambiare probabilmente il tipo di football che devi giocare. Magari bisogna tempo e può reagire. e può reagire con tutto il team e il team deve aiutare ai giocatori come Pedro che arrivano ora e hanno bisogno di giocare in questo tipo di Liga. Hai un'esplamazione, Cristian, per l'inconsistenza in performance? Non c'è un'esplamazione perché se sai cosa succede, potete cambiare questo. Ma è successo anche l'esplamazione l'esplamazione, dopo aver vissuto la Man City. Abbiamo perduto in Barley. E per essere consistente è un processo lungo. Non perché è un processo mentale. Devi essere meglio mentalmente. Devi essere meglio nel approccio. Adesso l'esplamazione non era buono. Ma dopo aver scoperto il gioco, qualcosa cambiò. Se c'è un problema mentalmente che non si arriva con l'esplamazione, quindi se continua a succedere? C'è una questione di cambiare il personale? Non, è un team. Siamo un team. Quindi è il team che deve cambiare qualcosa. Non solo individuamente. È un desiderio. Vogliamo giocare questo gioco. È un'esplamazione di recuperare l'energia mentalmente. Dopo un gioco come la Man City, quando giochi contro un gioco come questo, e magari usi tutto l'energia che hai. E per recuperare l'energia, è come avere una batteria. E quanto quanto questa batteria può contenere. E hai bisogno di pulire, di ricreare l'energia. Per avere questa batteria più grande, devi lavorare. E abbiamo bisogno. No problem getting yourself up for the Manchester City game. You've got AC Milan in midweek. It seems like, you know, are the players just not capable of raising themselves? No, not only the players. Everyone has to do it. Not only the players. It's not to be disappointed with the players. We have to be disappointed on ourselves. Everyone has to think about this. Was it good to have the manager back in Tech Clary with you? Was it good? Yeah, yeah, yeah. It's good for all the club, it's good for the team, it's good for everyone to have back Antonio. and he has to take it easy a bit. Because he cannot use his energy 100%. And for that we have to give something more to cover the gap. because without Antonio we knew that we have to be more responsible. And today we didn't start bad the game. We start well. We score. we were 1-0. And in that moment we have to continue. Did you have to, because we know Antonio is very passionate, did you as his friend have to say, look, he's a bit more calm than usual? We spoke before the game, during the game, but Antonio feel the difference. He takes care also on his healthy, so he has to be careful. But he wants to be back because he's our manager and his passion he can transfer as well in this moment. But he needs to take it easy a bit. Was he well enough to say something to the players afterwards, Christian? Was Antonio fit enough and well enough to say something to the players afterwards? And if so, what was said? No, about this game probably is better to speak tomorrow. And now we have to recover the energy because we will have an important game Tuesday in Milan against a team, an important club in the Champions League. So the history of this club is important. And so we have to play a great match. Thank you very much. We trust a lot in our team, in all the squad. So if we need to play with other players, we will play and we trust in them. And it's important to understand that it's not one player that changes a team. If the team does something more, we can cover the gap and use players that normally or in the past they didn't play a lot. And if everyone takes the responsibility, nothing changes. Thanks, guys. Thank you. Thank you. Grazie.